Nome? Camilla. Età? 24. Sei fidanzata? Sì. Da quanto tempo? È otto anni. Come si chiama lui? Alberto. Vi sposerete? Mi auguro di sì. Cosa fai nella vita? Adesso cerco di diventare una... Capogruppo Ibrochet. E oltre a quello? Sorella a tempo pieno. Che fulo! Come hai conosciuto Ibrochet? Tramite una ragazza su Instagram, Marta Barsotti. Ciao Marta! Ciao! Da quanto tempo fai questo lavoro? Dal 2018. Che ruolo hai in Ibrochet? Una consigliere di bellezza. Qual è il tuo prossimo obiettivo? Capogruppo. Ti manca tanto? No. No. Dai. Dai, questo mese ce la facciamo. Avresti mai pensato di arrivare sin qua? No. Perché no? Assolutamente. Perché ho poca fiducia in me. Stiamo migliorando? Sì. Che sogni hai nella tua vita? Sogni? Non ho un sogno preciso. Sì, no, ne ho tanti. Uno che ti piace tanto. Potermi comprare una casa. Hai qualcosa da consigliare a chi sta guardando il video in questo momento? Di entrare nel nostro mondo. Perché? Perché è tutto rosa e verde. Bellissimo! Ciao! Ciao!